Ciao padre, spingono, papagallo, come siamo combinati, papagio, come siamo combinati. Sì, andate questa mattina, capricerì andate a testa nel tuo ciropeggazzo, cari, mi dice sempre la riflessione, sempre il pensiero fisico. E penso, parla che così non si può continuare avanti. Ti spiego subito il motivo. Praticamente, dato che il nostro unico obiettivo nella vita, il nostro unico scopo, è che deve accedere a manchi fine. Ecco, questo fatto sta diventando sempre più difficile. Cioè, dato che la nostra vita prenda come unico scopo quello di avere qualche incontro, diciamo, più o meno ravvicinato con quel maledetto, schifoso, melmoso, bastardo, triangolino, maledetto, feloso, bastardo, cano, spazio di film. Bene, questo incontro viene sempre con minore frequenza e sempre più difficile. Io sono ricchi, vai, ti spiego subito i ricchi. Principalmente i ricchi film sono tantissime bastardi e troia. E che cosa comporta? Ti spiego subito che cosa comporta? Ma, perché i da conto non fanno già oreare. Cioè, dire, si seguono, si fanno, salvicevano, si fanno. Però poi quando si tratta di arrivare, allora, ecco, che da più che se ne fanno. Fanno tutti spagliosi. No, io qua, mio marito. Haganomi sbuttero tutto, haganomi sugare tutto, haganomi, haganomi, cerca di venire direttamente da un fango. Haganomi, ma santo ragazzo, ma allora, perché la vita, ma allora, perché la vita, perché la cosa è stata costruita, secondo te, per il fatto dell'urinazione, perché cosa è stata costruita quel maledetto triangolino? Per darlo, per donarlo, per farne un dono. È normale regolare questo. È scritto anche nella Bibbia, nel faccio lo secondo San Marco, San Paolo, San Filippo Neri. E allora, praticamente, perché dobbiamo avere questa difficoltà? Perché dobbiamo essere noi sempre a dover soffrire. Noi, sai, che stessa riflessione? Che mi viene ora, continuamente, stupendo di giro di Cristo. E io, allora, che cosa posso fare? Sono sempre a fare ma testa il mondo, ma che cosa è fare? È, d'alì, ho, d'alì, ho lausa, capito? Sente ma se saluta, oh, ciao, non ho visto, oh, ciao, breccionistro, non ho visto. Ciao, breccionistro, non ho visto. Ciao, breccionistro, ciao, breccionistro. Ciao, breccionistro.